video richiesto da Giuseppe ciao Giuseppe grazie per la richiesta spero che vada bene il video come lo sto facendo suoni dell'acqua ASMR qui dentro c'è dell'acqua e la mettiamo in un bicchiere in una tazza a un bicchiere a unicolino calcino a unicolino e che testo a unicolino in unicolino a unicolino a unicolino e unicolino in unicolino a unicolino e unicolino Grazie. 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 Grazie.